Le guerre sono inutili e rappresentano sempre una sconfitta. Papa Francesco lo ha ripetuto il 18 febbraio al termine dell'Angelus nella prima domenica di Quaresima, un'occasione per esortare all'impegno per la pace in Africa e in altre parti del mondo come l'Ucraina e la Terra Santa. La guerra sempre è una sconfitta, sempre. Ovunque si combatte le popolazioni sono sfinite, sono stanche della guerra, che come sempre è inutile, è inconcludente e porterà solo morte, solo distruzione e non porterà mai la soluzione del problema. Francesco ha chiesto di pregare senza stancarsi e in particolare ha dedicato il suo appello al conflitto in corso da dieci mesi in Sudan dove è in atto una grave crisi umanitaria. Chiedo di nuovo alle parti belligeranti di fermare questa guerra che fa tanto male alla gente e al futuro del paese. Preghiamo perché si trovino presto vie di pace per costruire l'avenire del caro Sudan. E c'è anche la situazione nel nord del Mozambico a preoccupare fortemente Papa Francesco. La violenza contro popolazioni inermi, la distruzione di infrastrutture, l'insicurezza dilagano nuovamente nella provincia di Cabo Delgado in Mozambico dove nei giorni scorsi è stata anche incendiata la missione cattolica di Nostra Signora dell'Africa a Mastese. Preghiamo perché la pace torni in quella regione martoriata. Le tentazioni di Gesù nel deserto sono state al centro delle parole del Papa all'Angelus del 18 febbraio, prima domenica di Quaresima, una meditazione dedicata ai consigli per vivere appieno questo percorso che richiede di entrare appunto nel deserto, cioè nel mondo interiore, nel silenzio e nella preghiera. In questa dimensione, ha avvertito Francesco, ci sono molte bestie selvatiche da affrontare. Possiamo dare dei nomi a queste bestie dell'anima. i vari vizi, la bramosia della ricchezza che imprigiona nel calcolo e nella insoddisfazione, la vanità del piacere che condanna all'inchietudine e alla solitudine e ancora anche l'avidità della fama che genera insicurezza e un continuo bisogno di conforme e di protagonismo. Queste, ha sottolineato il Papa, sono situazioni con le quali bisogna necessariamente fare i conti. Vanno amanzite e combattute, altrimenti ci divorano la libertà. E la Quaresima ci aiuta a entrare nel deserto interiore per correggere queste cose. La Quaresima però ci mette di fronte anche gli angeli. Essi sono i messaggeri di Dio, che aiutano, ci fanno del bene. Infatti la loro caratteristica, secondo il Vangelo, è il servizio. Esattamente al contrario del possesso, tipico delle opassioni. Servizio contro possesso. Gli spiriti angelici aiutano perché, ha spiegato Francesco, richiamano i pensieri e sentimenti buoni suggeriti dallo Spirito Santo. Mentre le tentazioni ci dilaniano, le buone ispirazioni divine ci unificano e ci fanno entrare nella armonia. Acquietano il cuore, infondono il gusto di Cristo, infondono il sapore del cielo. E per cogliere l'ispirazione di Dio e capire bene ci vuole entrare nel silenzio e la preghiera. E la Quaresima è tempo di fare questo. Nella Basilica della Sagrada Famiglia di Barcellona, i pellegrini siano accolti in un clima di preghiera. È l'invito che il Papa ha rivolto alla fondazione canonica privata che si occupa della costruzione e della conservazione e del restauro della Basilica ricevuta in udienza in Vaticano nella mattinata di sabato 17 febbraio. Nel suo discorso, pronunciato in spagnolo, il Papa ha ricordato che in questo anno la preghiera deve essere un momento di preparazione in vista del giubileo del 2025. È importante, ha detto, che questo clima non si perda nei luoghi di culto. In particolare, ha aggiunto, bisogna accogliere i fedeli con un atteggiamento orante in modo che siano aiutati a contemplare il progetto della Basilica stessa, la quale è strutturata in modo che ogni portico abbia un tema illustrato da passi della scrittura e incorniciato da una preghiera. Giuvidì 15 febbraio, il Papa ha ricevuto in udienza l'Associazione Francese Diaconia della Bellezza e nel suo discorso ha sottolineato l'importanza degli artisti in questa nostra epoca, esortandoli ad essere cantori dell'armonia tra i popoli, le culture e le religioni. La nostra umanità è scossa da violenze di ogni sorta, dalle guerre, dalle crisi sociali. In questo contesto abbiamo bisogno di uomini e donne capaci di farci sognare un mondo diverso, un mondo bello. Gli artisti e la bellezza hanno un compito fondamentale, ha ripetuto Francesco, quello di alimentare la speranza e di illustrare un modo diverso di stare al mondo, creando ponti tra cielo e terra e dunque avvicinando al divino. Incontrare la bellezza di Dio ci permette di ripartire, di ricominciare nel cammino verso la società più umane e più fraterne. Il Papa ha incoraggiato l'Associazione a proseguire nella missione di riannodare i fili tra gli artisti e la Chiesa attraverso incontri, spettacoli, concerti e rappresentazioni. È un modo per voi di rendere visibile la prossimità della Chiesa agli artisti, entrando in dialogo con la loro cultura e la loro vita, che siano credenti o no. Anche quest'anno il Papa ha iniziato la Quaresima nel quartiere romano dell'Aventino. Il mercoledì delle Ceneri, il 14 febbraio, come da tradizione è stato aperto da un momento di preghiera pomeridiano nella Chiesa di Sant'Anselmo, al quale ha fatto seguito la processione penitenziale verso la Basilica di Santa Sabina. Ed è qui che Francesco ha preseduto la Santa Messa con il rito di benedizione e imposizione delle Ceneri. La Quaresima implica un bagno di purificazione e di spogliazione, ha detto il Papa durante l'Omelia. Voglio aiutarci a togliere ogni trucco, tutto ciò di cui ci rivestiamo per apparire adeguati, migliori di come siamo. Un invito all'essenziale, a tornare al vero io e a presentarlo al Signore così com'è, senza paura. Significa guardarci dentro e prendere coscienza di chi siamo davvero, togliendoci le maschere che spesso indossiamo, rallentando la corsa delle nostre frenesie, abbracciando la vita e la verità di noi stessi. Il Papa si è rivolto a ciascun credente in modo chiaro, ricordando che l'elemosina, la preghiera e il digiuno non possono ridursi a pratiche esteriori. La vita non è una recita e la Quaresima ci invita a scendere del palcoscenico della finzione per tornare al cuore, alla verità di ciò che siamo. Andare al cuore significa praticare una dimensione segreta e di silenzio. Mentre oggi ha osservato Francesco, la vita si svolge soprattutto in superficie, nel bisogno di essere notati, ammirati e apprezzati. Senza accorgersene, ci ritroviamo a non avere più un luogo secreto in cui fermarci e custodire noi stessi. Immersi in un mondo in cui tutto, anche le emozioni e i sentimenti più intimi, deve diventare sociale. Ma come può essere sociale ciò che non sgorga dal cuore? Camuffati con la maschera delle apparenze, corriamo il rischio di restare vuoti e aridi. Ecco perché la Quaresima rappresenta un'occasione propizia per cambiare passo. In queste settimane di Quaresima diamo spazio alla preghiera di adorazione silenziosa, nella quale rimanere in ascolto alla presenza del Signore. Grazie a tutti.